Sono molto contento di essere qui a Terni e per me è un onore e un piacere di prendere assuto il comando di questa provincia, di Vigilio, di questa provincia. Io provengo da una scuola di formazione operativa, ho lavorato fino ad attorno per la formazione del nostro personale per cercare di elevare gli standard principali. Il mio obiettivo è quello di proseguire l'attività del comandante precedente che ha già avviato tantissimi progetti, tantissime iniziative per la sicurezza dei cittadini. Vorrei cercare di lavorare su questo e cercare di essere disponibile per l'amministrazione, per i cittadini, per tutto quello che sono le esigenze della cittadinanza. Quindi sì, ringrazio il comandante di Terni per tutto il lavoro che ha fatto e cercherò di essere validamente di proseguire questa attività.